Ciao a tutti, bentornati nel nostro canale! Oggi impareremo tutti i passaggi per fare la ruota. Ok, qual è il primo passaggio? Il primo passaggio è quello dello step, è mettere le mani sopra lo step e cercare di scavalcarlo e arrivare dall'altra parte. Via! Secondo step, impariamo come si mettono le mani. Le manine devono essere girate e messe su questa risa e i piedini devono andare qui dentro. Ok, possiamo farlo con tante cose, la riga possiamo disegnarla, possiamo mettere lo scotch, possiamo fare quello che ci fa più comodo. Vai! Metto le manine, spingo. Metto le manine, spingo. E le manine devono essere girate dalla parte della gamba davanti. Fai vedere? Metto avanti una gamba, giro le manine dalla parte bravissima della gamba. Ok! Terzo step! Cerchiamo di imparare come si alzano le gambe al meglio. Usiamo due materassi così non avranno paura anche perché se cadono, cadono sul morbido e devono cercare di fare la ruota in mezzo a questi due materassi. Ok! 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 Dopo avervi fatto vedere tutti i vari step, unendoli tutti dovrebbe venire fuori una ruota. inizialmente la proveremo sul morbido e poi dopo per la drizzale la proveremo sulla riga. Ok! Così verranno delle ruote perfette e la potremo fare anche sulla... ...riga! No! Se la facciamo sulla riga, dopo è perfetta e la possiamo fare sulla... ...tra... ...tra... Via! ... ... Per migliorare la vostra ruota vi segniamo un po' di trucchetti guardate ok mettendo le mani vicine vicine ai piedi la ruota viene tutta storta quindi il trucco è affondo mani lontane lontane vai oh viene molto più dritta qualcuno vuol far vedere con l'affondo via lungo il piede lontane le braccia meglio lungo il piede lontane le braccia ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao